ciao sono alessia di alessia scrap and craft e casa organizzata se non vuoi perdere neanche uno dei miei video ti ricorda di cliccare la campanellina qui sotto in modo appunto da ricevere le notifiche e appena esce qualcosa di nuovo ce ne sono spesso ne sto facendo molti e quindi seguimi ciao 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 ciao